Oh yes baby, nuova playlist, primo valgito battesimo di una nuova playlist qua sui Sporting Tapation che spero vivamente ragazzi vi possa piacere da matti, perché i personaggi dei nostri universi di Apex, di Valorant, di Fortnite, di Overwatch non sono stati lì messi a caso ragazzi, non sono dei pipinotti venuti fuori all'improvviso dalla penna o dalla mente dei programmatori c'è una lore all'interno di esso e la lore ragazzi è incredibile, meravigliosa e io quest'oggi ragazzi voglio battezzare questa playlist, sperando ovviamente che vi possa interessare, con Valkyrie la nuova leggenda che troveremo nella season 9 di Apex, un titolo che obiettivamente ragazzi sta macinando numeri su numeri insomma amici, di questo personaggio che cosa sappiamo, come si lega a tutto l'universo, il metaverso di Apex? beh amici, è una storia davvero molto interessante, ricca di colpi di scena e che indubbiamente ci fa scoprire moltissimo sul personaggio e anche in qualche maniera sulle sue abilità, che quest'oggi ragazzi toccheremo con alcune ipotesi e alcuni rumor che abbiamo trovato in rete, amici benvenuti in questa nuova playlist, benvenuti su Sport e Tapation il trailer che ha rilasciato poche ore fa Apex, amici, è ricco zeppo di piccolezze, minuzie che comunque ci fanno capire di come tutto, attenzione, ecco qua già subito, il mondo, ok, di Apex tutti i suoi personaggi sono strettamente collegati tra di loro allora amici, io vi voglio presentare la nuova leggenda che si unirà al roster nella season 9 di Apex e il suo nome è Kairi Ikamura, essenzialmente amici questo nome potrebbe non dirvi assolutissimamente nulla ma attenzione amici, ok, perché fra qualche secondo arriverà un personaggio che ci spiegherà molto di più la lore della nostra nuova leggenda stiamo vivendo un flashback, siamo tornati indietro nel tempo simboli ragazzi della Ranked Master di Apex a destra e a sinistra e obiettivamente anche riferimenti ad Apex proprio puntigliosi e scritti e troviamo questo personaggio, un personaggio ragazzi che nel trailer scopriremo che si chiama Viper oh mio dio, Viper, non vi dice qualcosa questo nome? ebbene, se cercate con accuratezza nei cassettini della vostra memoria e scrivete in internet Titanfall 2 Viper scoprirete che essenzialmente è una boss fight di appunto Titanfall 2 una delle boss fight più incredibili, belle, sfaccettate di quell'incredibile universo mi dispiace che alcuni di voi amici essenzialmente non l'abbiano mai giocato ma era bello quel mondo, era fatto bene e vediamo che è incredibilmente connesso lo sapevamo già, Apex e Titanfall sono strettamente connessi ma non sapevamo fino a che punto fino a quando essenzialmente osservando con più attenzione questo esoscheletro notiamo una cosa molto interessante che essenzialmente è lo stesso esoscheletro che sta utilizzando in questo preciso momento del trailer la nostra Valkyrie ragazzi, i segni presenti all'interno di questo robottone sono praticamente presi uno a uno ok? e già questo potrebbe fare una prova ma forse non vi ho ancora convinto e allora ragazzi permettetemi sempre su questa immagine di fare un'altra riflessione che ci fa sicuramente capire che stiamo vedendo un flashback e che quello che abbiamo vissuto in Titanfall 2 essenzialmente è comunque strettamente collegato in quello che vediamo in questo trailer di come anche la nostra Kairi sia stata profondamente toccata da tutto questo guardate le bellissime ambientazioni verdi lussureggianti del mondo della nostra Valkyrie ed ora osservate qua dietro le ambientazioni dietro la boss fight appunto di Viper amici, sono praticamente speculari sono una a una ed essenzialmente scopriamo anche che quelli che noi credevamo fossero i cattivi di Titanfall in realtà, dulcis in fondo, si sono anche rivelati essere dei salvatori ok? delle leggende che fuori dal coro insomma hanno aiutato il mondo a non essere autodistrutto anche se all'inizio del trailer ragazzi scopriamo che quel bellissimo pianeta essenzialmente è stato raso al suolo molto probabilmente ragazzi per appunto le vicissitudini che sono avvenute in Titanfall 2 dove quell'incredibile nucleo di energia che si chiamava Ark essenzialmente esplosa e ha distrutto completamente tutto lo sapevamo ma questo scheletro, quel titano ok? queste ambientazioni ci fanno solamente capire una cosa la storia come si è evoluta e come essenzialmente ha dato vita poi alle leggende di Apex per me amici queste cose sono a dir poco fantasmagoriche e incredibili ma permettetemi un attimino di andare avanti perché adesso che abbiamo scoperto la lore del mondo di Titanfall e la lore della nostra Valkyrie e vediamo che sono estremamente intrecciate vi permetto un attimino di entrare un po' più nel dettaglio e appunto siamo arrivati nell'ultima parte di questo video nella quale già in questo trailer e anche in tanti altri mini indizi scopriamo di come i personaggi si conoscono ma soprattutto delle abilità della nostra Valkyrie allora ragazzi per quanto riguarda quello che guardate che gli dà la carta Apex per appunto diventare anche lei una leggenda Apex proprio come era suo padre ok? e guardate poi essenzialmente che cosa succede questo è il titano lo vedete? è praticamente identico a quello di suo padre quello che è stato raccolto con gli stessi identici simboli e poi improvvisamente eccola qua un'altra figura molto molto familiare ragazzi lei è Rampard e amici alcuni avevano già indovinato che stava lavorando a qualcosa di molto particolare e infatti se andate un po' indietro e cercate Rampard Wallpaper ben era emerso uno molto particolare della nostra Rampard ormai mesi e mesi fa nella quale guardate qua dietro come il Letronic Arts aveva già lanciato una piccola chicca in mezzo a questo mondo i simboli di questo robottone qui sono esattamente i simboli del robottone che poi obiettivamente prenderà il controllo della nostra Valkyrie questo che cosa indica ragazzi? guardatela qui la nostra Rampard che i personaggi si conoscono che la lore è estensamente legata e non slegata tra tutti i personaggi inoltre ragazzi intanto una figata incredibile questo robottone ok? inoltre amici Letronic Arts ci aveva già dato modo in qualche modo di prevedere l'arrivo di un personaggio volante perché si obiettivamente ragazzi la nostra Valkyrie volerà con le sue abilità anche in un altro trailer se andate nel video di ringraziamento di Letronic Arts per i 100 milioni di player in tutto il mondo oh mio dio cosa emerge lassù in alto? ebbene amici Mirage essenzialmente sta guardando proprio quello che potrebbe essere una delle abilità di Valkyrie e appunto adesso arriviamo all'ultimo punto nella quale già si inizia a ipotizzare che cosa potrà fare la nostra nuova leggenda ragazzi la pagina in questione è stata completamente tradotta ok? e come vedete da alcuni screen che sono emersi e hanno suscitato grandi interessi su internet guardate quanti altri personaggi usciranno in Apex e obiettivamente andremo a scoprire la lore di ognuno di essi e come si collega al mondo di Apex e Titanfall e infatti vediamo qui l'immagine di come questo è il primo sguardo ufficiale ad un gameplay ok? perché questa è essenzialmente grafica gameplay della nostra Valkyrie e poi subito sotto ragazzi ci sono state alcune informazioni per quanto riguarda le abilità della nostra nuova leggenda il primo ragazzi potrebbe essere un razzo che esplode più volte nei trailer e anche obiettivamente nel wallpaper scopriamo di come questi ragazzi non saranno messi lì essenzialmente per bellezza no, probabilmente avranno una loro utilità e anche avere un isoscheletro con tutti questi fuochi dietro beh, molto probabilmente amici darà vita ad altre incredibili abilità e infatti una delle sue abilità passive che si ipotizza possa avere è appunto il Jet Vault che appunto vi permetterà di fare un salto più in alto e vi permetterà quindi di attaccare i nemici dall'altezza un po' come succede con il raggio che vi spinge in alto della nostra Horizon e come ultimo ragazzi un'altra bellissima abilità l'abilità che vi permetterà di poter salire in alto proprio come se fosse un balloon ok? i vostri compagni non so se tutti non so se solamente uno non sappiamo la sua portata non sappiamo tante cose ragazzi di questa abilità ma comunque sia questo apre nuovi orizzonti per il gameplay di Apex questo ragazzi porterà una verticalizzazione questo porterà anche al riempimento dei cieli di importanti personaggi e quindi obiettivamente ad una escalation importante e anche o un meta significativo di come si comporteranno i player e gli scontri nell'immediato futuro perché vi ricordo amici che la stagione 9 di Apex è praticamente alle porte io spero vivamente che questo video possa avervi interessato che in qualche modo vi abbia fatto capire ed eccitare molto di più sulla nostra piccola Valkyrie che sembra davvero molto interessante ma soprattutto con un background di una lore davvero molto molto intrigante scopriremo che cosa succederà e io spero vivamente che voi vogliate supportare questa nuova playlist semplicemente con un like e un polliccione ragazzi noi ci vediamo in un prossimo mega video sempre qui su eSport eTapation ciao